A Masca Lucia, telecamere nascoste beccano sul fatto che non rispetta le regole della raccolta differenziata. Già da tempo è in vigore al porta a porta, ma non tutti ritengono sia necessario. Per questo il Comune è dovuto ricorrere ai ripari, installando le telecamere nelle zone più a rischio, nel centro e nella periferia, dove si trovano una ventina di castonetti gialli, che servono per la raccolta degli indumenti usati, e che invece si sono trasformati molto spesso in discariche a cielo aperto. L'abbandono dei rifiuti vicino ai castonetti è una prassi molto comune, commenta il comandante della polizia municipale, Carmelo Zuccarello. E poiché sono scomparsi i castonetti per far posto al porta a porta, quelli superstiti diventano le nuove vittime. E invece è così semplice rispettare le regole, conclude. Ma i trasgressori sono tutti residenti, difficile da fare una stima, ma ci sono diverse persone che arrivate da fuori scaricano la loro immondizia a Masca Lucia.